In questo tutorial illustriamo come iscriversi all'anno accademico 2022-2023 dell'Università dell'Educazione Permanente del Comune di Verona. La quota va pagata esclusivamente attraverso il circuito Pago PA, osservando le seguenti indicazioni. Dalla home page del sito del Comune, nella sezione Servizi online per cittadini e professionisti, clicca sul pulsante Pagamenti. Seleziona la voce Altri pagamenti Pago PA. Clicca sul tasto blu Paga con Pago PA. Seleziona quindi Cultura e Turismo e seleziona la voce di pagamento 1 Iscrizione ai corsi web. Attenzione! Nella sezione Dati pagamento, nella finestra Causale, inserisci nome, cognome e numero di telefono della persona che si iscrive al corso. Nel campo, a seconda del servizio scelto, indica se si tratta di nuovo o vecchio iscritto. Compila quindi gli altri campi richiesti e seleziona la modalità di pagamento a scelta tra pagamento online, da effettuarsi direttamente online con carta di credito, o pagamento tramite avviso. Scarica il QR code e stampalo. Con il codice potrai pagare attraverso il circuito bancario, sui canali fisici o digitali di Poste Italia, taglie, tabaccherie o supermercati abilitati. Per completare l'iscrizione, una volta effettuato il pagamento, vai alla pagina presente sul portale del Comune di Verona dal titolo Modalità di iscrizione ai corsi dell'anno accademico 2022-2023 e clicca sul link presente nel paragrafo 2 Completare l'iscrizione. Inserisci la quantità 1 e premi Invia. Compila quindi il modulo con tutti i dati anagrafici e il codice univoco EUV della ricevuta di pagamento e clicca su Prenota. A questo punto la procedura è completata e riceverai una mail di conferma.